Giovanni Floris, giornalista, scrittore e volentonalente personaggio. La televisione, anche se dicono che non ami parlare di posso darti del tu, parlare di te e che sei gelido, algido. Questo chi l'ha detto? Non lo so, le raccontano. Hai parlato con qualcuno che mi conosce. Raccontano, però dicono anche che almeno come passione romanista sei poco algido. Sì, ce li ho degli ambiti, diciamo. Uno è quello. Le bandiere. Uno è da tifoso. Quando la magica vince. Giornalista perché? Nel senso che tu hai attraversato tutte le tappe di quella che si chiamava una volta la gavetta, quindi le agenzie, la radio, la televisione, la carta stampata, la televisione. E' anche banale chiederti dove ti senti più a tuo agio, visto che i giornali sono morti. Dove mi sento più a mio agio? Forza alla radio, dove quello che mi piace fare il giornalista, quello che per destino e fortuna ho avuto modo di fare è la televisione. Penso che il mezzo non caratterizzi la professione. Mi sento un giornalista, cerco la notizia, cerco di fare il meglio che posso, quale che sia il mezzo. La grande fortuna è stato un concorso, però è vero la gavetta, però poi c'è stato un concorso che faceva entrare nella scuola di giornalismo della Rai. E quello probabilmente mi ha evitato tanti passaggi e mi ha portato direttamente in Rai. I giornali sono morti? Guarda, niente more mai, l'importante è che trovi una ragione da essere. Probabilmente io non ho una grande esperienza alla carta stampata e quindi è difficile immaginare il futuro della carta stampata per me. Però probabilmente se ti specializzi in un ambito sarà quello più della riflessione. Come se scalasse tutto. Adesso la televisione, dice giustamente Andrea Salerno, il direttore della Sette, dice la televisione rispetto ai social è diventata micromega. E probabilmente i giornali devono trovare una collocazione nel nuovo mercato, nelle nuove teste delle persone. C'è un protagonista del tuo romanzo che la butta lì, la nostalgia per la carta stampata. Uno che ancora legge la mazzetta dei giornali, praticamente un residuo del Novecento, però si capisce che hai una certa... Che mi piacerebbe avere la mazzetta dei giornali, però non ce l'ho più, li guardo nell'iPad. Fausto Maria Borghese nell'Invisibile invece ha ancora la mazzetta dei giornali. Una mattina, sì. Ha difficoltà a entrare nel mondo dei social e sarà il tema tracciante di tutto. Tu hai avuto difficoltà? No, io l'ho tuttora. Io non sono presente né in Facebook, né in Twitter, né in Instagram. Ci siamo come trasmissione, ci sono i miei libri, però io non ho niente da dire sui social. Se non fosse la politica, qual è l'ambito in cui ti interesserebbe di più muoverti? Non dire economia perché tu hai iniziato come giornalista economico e di fatto... Come giornalista, dici. Sì, di fatto sono tangenti economia e politica, no? Lo sono diventate, inizio degli anni 90 non lo erano. All'inizio degli anni 90, quando è iniziato, l'economia era in un angolo. Poi ci fu il problema della lira, Amato, Ciampi, hanno trascinato l'economia nella politica. Ma prima erano molto separati. L'unico punto di contatto era il giornalismo sindacale, no? Si chiamava, c'era chi seguiva solo i sindacati, era proprio un altro mondo. Mi piacerebbe la cronaca, io sono appassionato di cronaca. La cronaca nera? Di cronaca nera, so tutto. Ma veramente? So tutto. Vuoi chiedermi la banda e la magliana? Lo so. Vuoi chiedermi qualsiasi cosa? So tutto. Ma come mai? Il gusto del noir? No, mi è sempre piaciuta, mi piace l'esistente, mi piace quello che succede. La realtà, in tutti i suoi aspetti. Tu sei stato anche inviato ed eri a New York l'11 settembre del 2001. Ho fatto un anno di corrispondenza a New York, ero arrivato a New York in sostituzione di un collega di Paolo Longo, che era in vacanza, e io e Gerardo Greco ci siamo alternati nel sostituirlo per il giornale Radio Rai. Il mio periodo era da agosto a settembre, c'è stato il settembre 2001, l'11 settembre. È stata forte essere lì e dover raccontare, oltre che guardare, rimanere stupiti, dover anche spiegare. È un'esperienza fortissima e diciamo che non può che segnare come cittadini, come persone. Poi il doverci fare il giornalista è una cosa di cui quasi non ti accorgi, perché è una cosa talmente di impatto. Tu sei davanti alla storia, non alla cronaca, per parlare di cronaca o di storia. E ti trovi per di più a doverla raccontare. E in quel momento, almeno io come ho reagito, io poi ero agli inizi, non avevo mai fatto televisione, ti metti a lavorare piano piano, come quando si rompe una tazzina di caffè, la devi rimettere con la colla pezzetto per pezzetto, è un puzzle. E così dici, va bene, facciamo questo passo, questo servizio, quest'altro passo, raccontiamo questa cosa e poi ti trovi che è finita. Certo, se la guardi da fuori ti rimani immobile. Siamo qui nel tuo studio, anche se non si vede, fervono i lavori, sentiamo rumori, rumoretti. Anche uno studio per chi ha fatto l'inviato può diventare routine, Giovanni? No, no, perché il mondo da dovunque lo guardi è sempre in movimento, dal mio punto di vista. Tanto più uno studio dove in tre ore e mezza, come ora è di martedì, si incrocia veramente tutto quello che succede nella politica, nell'economia, non solo, anche in altri aspetti, nella società italiana. No, non si riesce a farlo diventare routine. Quindi è sempre la novità, è lo stupore la novità ogni volta? Stupore no. L'interesse, la curiosità? L'interesse, la curiosità sì, e la voglia ad approfondire soprattutto. Sai, diciamo, c'è un filo comune, forse da Ballarò fino a oggi, ma forse anche prima quando avevo fatto radio anch'io. È un periodo, ed è un periodo che ormai dura da una ventina d'anni, in cui la lotta è tra la logica e la passione, no? È una lotta che non ci dovrebbe essere, perché sono due componenti dell'essere umano. Invece sono poste come alternative. In questo gioco io spesso mi trovo a coprire il ruolo della razionalità e della logica. Ecco che dicono che sei freddo, in questo senso, insomma. Sì, in questo momento mi sembra che ci sia un gran bisogno di logica. La logica non è contraria alle passioni, però non può essere sostituita da quelle, no? E allora forse nel modo in cui il nostro gruppo di lavoro ormai va avanti al 2002, siamo più o meno sempre gli stessi con nuovi inserimenti, soprattutto nel passaggio dalla RAI alla Sette, ci siamo trasformati, evoluti. Però forse la linea guida di tutto il nostro lavoro è stato sempre quello, cercare di affrontare con lucidità i momenti di passione. Ci sono tanti momenti di passione in Italia, pochissimi di lucidità. Tu accennavi prima al giornalismo sindacale, tu hai iniziato a lavorare per Mondo Operaio, per la rivista CGL. È difficile non essere un giornalista organico, cioè a muovere le ragioni e gli ideali senza far riscadere nell'ideologia? Fortunatamente, probabilmente, la mia generazione è più abituata a farlo. Noi siamo cresciuti negli anni Ottanta, eravamo guardati male da quelli degli anni Settanta, perché noi ideologia non avevamo, stavamo sui fatti. Ho iniziato a lavorare in CGL e mi sono lavorato in Confindustria con la LUIS, quindi diciamo si vive di contraddizioni, no? Scienze politiche, giusto? Scienze politiche. Quindi nell'Università della Confindustria LUIS, e poi ho lavorato in Mondo Operaio, ho lavorato all'Avanti, ho lavorato nella casa editrice della CGL, ho lavorato nel mondo del lavoro, che è fatto da capitale il lavoro. Questo poteva colpire negli anni Settanta. Noi negli anni Ottanta forse lo sapevamo che le due cose possono... E devono stare insieme. Possono stare insieme, devono stare insieme, possono avere conflitti, devono avere conflitti, ma esistono entrambe, nessuna nega l'altra. Meglio così. Tu come giornalista sei deluso dello spettacolo della politica o invece ti serve per la televisione, lo spettacolo della politica? No, non sono deluso, perché la politica vorrebbe dire essere deluso al proprio paese, no? Perché la politica rappresenta il proprio paese. E non lo sei? No, deluso no. Deluso di me stesso, perché il paese sono anche io. No, non lo sono. Siamo portati a dare le colpe ad altri poteri sempre, no? Siamo portati sempre a dare le colpe ai politici o a quelli che hanno votato un'altra cosa. No, io penso di essere l'espressione del mio paese che esprime anche una politica che al momento ha un grande tratto, è inconcludente, non riesce a risolvere i problemi. Il problema però non sono i politici dal mio punto di vista. Il problema sono gli elettori, quindi noi, che non votiamo più chi vuole, chi è in grado di risolvere i nostri problemi. Votiamo chi si lamenta di quello di cui ci lamentiamo noi. Noi cerchiamo empatia, non cerchiamo rappresentanza. Noi cerchiamo qualcuno che dice sto male come te. E invece dovremmo cercare probabilmente qualcuno che ci dica guarda, se stai male, provo a giustare le cose. Anche quando scegliamo gli amici è così, no? Beh, gli amici non si scelgono, te li dà la vita. Però cerchiamo di essere compatiti sempre. Vogliamo spesso qualcuno che ci consoli, che ci dica poverino, no? No, io no. Tu sì? No, no, di solito. No, no, anzi, se mi dicono poverino, dico ma come? Svegliami. Senti, parentesi, politica, economia, scuola. Sì. Tu hai scritto molti saggi e mi ha molto colpito il tuo interesse per la scuola. Beh, hai dei figli, ma non sei stato uno studente come tutti, ma non credo sia solo questo. Cioè, il tuo titolo dell'ultimo saggio, la fabbrica degli ignoranti. Sì, poi c'è stato anche Ultimo Banco. È Ultimo Banco. Ma gli ignoranti sono oggi più gli insegnanti o gli studenti o tutte e due? Allora, guarda, ignorante è chi non capisce e non si fa capire. Questo vuol dire che ignorante può essere anche una persona a un tre lauree. Non è legato al percorso di studi. Ci possono essere percorsi formativi come i viaggi, il lavoro, le conoscenze, la fortuna, le esperienze di vita che ti formano molto di più di un PhD a Boston. Non è quello. Io sono convinto che la scuola sia però la più grande struttura di formazione, diciamo, alla vita che c'è in Italia. La scuola pubblica ha una struttura tale, per cui se noi usassimo questa rete di sapere, saremmo molto più abituati a risolvere i problemi. E torniamo al problema che dicevamo prima. Noi, in qualche modo, abbiamo perso fiducia nello strumento culturale. Abbiamo perso fiducia, quindi, nei professori, nelle maestre, nei professori delle medie, nei professori degli istituti, nei professori dei licei. Questo perdere fiducia in loro, nella struttura della scuola, è fondamentalmente perdere fiducia in noi stessi, cioè nella capacità che noi, grazie a quello che ci tramandano gli altri, quelli che erano prima di noi, siamo in grado di fare. E invece noi siamo in grado solo di prendercela, con l'istituzione e la scuola. Io mi ricordo, quando io tornavo a scuola, dicevo, ho preso quattro, mi dicevano, devi studiare. Se adesso molti ragazzi tornavano a scuola e dicono, ho preso quattro, i genitori gli chiedono, chi te l'ha messo? C'è professore e professore, il professore può essere contestato, il professore può sbagliare. E questo, guarda, è vero, perché tutti abbiamo avuto dei professori scarsi e dei professori eccezionali. Però quando tu stai nei guai, chiami i carabinieri, anche se ci sono molti fatti di cronaca che dicono che i carabinieri sbagliano, ma nei carabinieri credi. E noi dovremmo credere nella scuola. Dobbiamo riandare ai famosi anni 70, allo svilimento della figura dell'autorità, che non deve essere autoritaria, ma deve essere autorevole. Sai che è meno grave di quello che sta succedendo ora, perché là non credevi nel professore e nella scuola. Qua non credi nel sapere. Adesso è il professore svilito perché viene svilito, diciamo, quello che lui porta, non quello che lui rappresenta, come negli anni 70. Adesso non si crede che lui possa darci qualcosa di utile. Invece l'unica cosa utile che c'è nel mondo è la conoscenza. Scuola pubblica, dicevi prima, va bene, ma nel tuo romanzo mi sono segnato un appuntino. I figli del protagonista vanno, tra virgolette, in un'improbabile scuola di preti. Che ti hanno fatti i preti? Oh, niente. Perché questa? Mi ha fatto la scuola privata. So che non è il campo... No, bisogna parlarne, è giusto, perché hai delle ragioni. Io sono convinto che la formazione vera sia quella che offre, non solo la scuola pubblica, ma la scuola pubblica del tuo quartiere, scegliere una scuola in base alle tue convinzioni, che selezioni, diciamo, che selezioni di per sé i compagni di classe dei tuoi figli, perché anche quei genitori hanno pensato che la formazione giusta fosse quella data da quella singola scuola, è per me creare una società improvetta. Invece la scuola serve proprio al contrario, a prepararti, a incontrare chiunque, in qualsiasi posto, in qualsiasi modo, a confrontarti con difficoltà, a confrontarti con idee diverse, a confrontarti con vestiti diversi, con modi di pensare diversi. I figli di Fausto Maria Borghese sono in divisa, no? Sì, però è un po' lo stereotipo, no Giovanni? La scuola dei preti, dei ricchi, no? Io sono per la libertà totale di educazione, e quindi credo che sia anche normale, giusto, che tu dai ai tuoi figli quello in cui credi. Io anche sono per la libertà totale di educazione, ma non lo sceglierei. La scuola, peraltro, non si chiama privata, ma si chiama paritaria. Sì, sì, sì. Si dovrebbe insistere su questa paritarietà che fa parte del pubblico. Si è liberi di sceglierla. Secondo me è un errore. Secondo me bisogna andare alla scuola pubblica, perché la scuola pubblica mette in contatto più modi di pensare e mette in contatto più persone differenti. Però è una scelta di padre, non è una scelta politica. Ci sono altri padri che pensano differentemente e formeranno... Io stesso, ti ho detto, sono andato in un'università privata, non sto parlando di dogmi politici da rispettare. Sono convinto che sia più utile. Sì, forse dovremmo insistere sul fatto che anche la scuola paritaria è pubblica non solo di nome, dovrebbe esserlo anche di fatto, quindi aperta a tutti, varie classi sociali, varie possibilità. Però senza finanziamenti pubblici. Quindi possiamo non uscirne mai da questo rimaccio. No, non usciamo, forse resteremo su posizioni opposte. Diciamo, il pubblico andrebbe finanziato al pubblico. Ma non è per svicolare, perché è giusto confrontare le idee, quale se siano. Passo al tuo ultimo romanzo, che è l'Invisibile. Innanzitutto mi è piaciuto molto. Il titolo non fa assolutamente capire di che cosa parla e questo aumenta poi la curiosità. Ed è un giallo, un thriller, un'inchiesta sul modo di fare le inchieste. e in generale sulla comunicazione. C'è una storia, naturalmente, che prende al di là. Però ci sono dei temi sotto, la comunicazione e la politica. Ci sono due persone che si raccontano in maniera molto facile, molto piatta. Uno è un imprenditore di successo, con i figli alla scuola privata, con una bellissima moglie, con la politica che lo corteggia molto ricco. E l'altro è un giornalista... Sfigato. Diciamo un po' visto da fuori, lui non si ritiene tale. Lui non si ritiene tale, lui si ritiene il vero giornalista. Leone da tastiera, combatte duramente perché le notizie non passano con quelli che lui chiama i giornaloni e nel suo sito sì. Queste due persone che non dovrebbero mai incontrarsi, vivono in due universi paralleli, si incontrano da un barbiere. Il barbiere Oreste, in un quartiere che chi conosce Roma magari lo conosce, è un quartiere nomentano, che è tra la Roma bene e la Roma della periferia. In questa fascia di mezzo si incontrano queste due persone e il giornalista dice ma che ci fa questo qua? Non può essere uno come lui, non va in posti così, ci deve essere una ragione. Inizia a indagare e indaga con un'idea preconcetta. Esatto. Che lui abbia qualcosa da nascondere, talmente motivato in questa ricerca che trova qualcosa. E se non lo trova lo crea. L'altra persona dice ah sì, fai così? Allora se questo è il meccanismo, se la verità la fa chi racconta e chi ascolta, a questo punto invento anch'io. Inizia una guerra per cui entrambe le figure si sgretoleranno in quello che poi è il giallo. E non lo diciamo. Però diciamo che c'è il tema di come si fa a rovinare un uomo con una comunicazione distorta. Sì. Nascondendo la verità. E noi ci siamo. Sai cos'è di più? Che lui lo fa in buona fede il giornalista. Cioè lui nel suo pensiero dice io non sto nascondendo la verità. e diciamo il dramma è che lui ritenga di esserlo. Lui dice io non so nascondendo la verità. Io la so la verità. Ora certo mi mancano gli argomenti. Ti ricordi Pasolini? Io so. E mi mancano le prove. Ma quelle sono l'ultimo problema. Io vi dico intanto dove va. E qualcosa lo costruisco. Perché lui non fa il giornalista vuol fare il giustiziere. Lui non fa il giornalista. Il giornalista dovrebbe fare il ragionamento contrario. No. Penso che questa possa essere la verità. Mettiamola alla prova. Vediamo se ho ragione io. O se ha ragione lui. Lui invece dice ho ragione io. Cosa succede però? Che in un mondo in cui la verità è così difficile da delineare come quello nostro come quello dei social come quello che si descrive in questo giallo in un mondo così complesso può essere pure che se inventi ci azzecchi e allora là nasce un giallo che è un po' più complesso di quello che uno si immagina. E' anche un romanzo però sulla politica sull'odio che certa politica attrae su un certo anche disprezzo iconoclasta sull'incapacità di costruire dell'antipolitica. Sì. Di più. Sul fatto che l'antipolitica pensi di poter rafforzare se stessa militandosi. Questo giornalista è talmente convinto delle sue idee e leviamo il fatto che magari ci azzecca pure perché quello è il giallo fondamentalmente se nella sua ricerca ha ragione a cercare il male nelle tasche di Fausto Maria Borghese è talmente convinto che dà per scontato che tutto il mondo sia con lui e lui si accorgerà che persino le persone che vivono insieme a lui lo abbandonano. Allora io non vedo diciamo si è tanto discusso di cosa fosse antipolitica io non credo che le manifestazioni le piazze siano antipolitica perché nel momento in cui scendi in piazza e dici qualcosa stai facendo politica. Ha un grande difetto questa visione del mondo questa visione che poi è trasversale a tutti i partiti che poi è decantata in molti casi in populismo ha il difetto di pensare che tutti siano d'accordo con te. Il populismo ha un grande difetto di pensare che il popolo sia uno il popolo sia un'infinità ognuno pensa diversamente la politica è quella che li deve mettere d'accordo. È l'appiattimento delle diversità. Certo il pensiero unico di fatto in questo romanzo il protagonista e l'antagonista possono anche rovesciare i loro ruoli ti ricordi che si diceva Nenni quando vuoi fare il puro c'è sempre qualcuno più puro di te che è pura allora quello che è il puro l'innocente può diventare corrotto e quello che sembra corrotto forse ricerca la purezza o forse no o forse no va bene non devo dire nulla il problema è quello perché nel gioco delle verità diciamo chi è anti la giustizia e chi è contro e la giustizia potrebbe versino essere giusta alle volte diciamo che gli uomini non sono etichettabili eh no questi soprattutto vorrebbero poi essere invisibili presi da per sé l'invisibile e ognuno dei due senti chi cerca il personaggio invisibile a sua volta deve diventare invisibile e tu vorresti esserlo invisibile qualche volta io fondamentalmente ritengo di esserlo perché faccio il lavoro vado in onda ma poi che ne sai cosa penso è difficile no è difficile rimanere sul terreno del lavoro e non entrare nella logica del personaggio che viene raccontato e tu ti trovi a essere quello che viene raccontato guarda questo però è il destino di noi tutti in un qualsiasi posto di lavoro di te pensano cose che non sono vere ti raccontano come una persona che non sei ma non solo nel lavoro in qualsiasi ambito cioè è difficile conoscere una persona probabilmente neanche noi ci conosciamo no profondamente neanche noi siamo in grado di prevedere ogni nostra reazione chi sta in televisione lo fa un po' più di gente intorno ma non è che cambia molto se tu sei una persona che conosce i propri limiti che conosce la propria misura sai che non devi correre appresso a quello che dice il sito di gossip o quello che dice il giornale che ti ha come nemico le persone vicine a te lo sanno e poi quelle che si fidano delle vociacce è peggio per loro fa male comunque non si rimane indifferenti e all'inizio soprattutto no poi un po' tabitui tantissimi amici uno simoro hanno notato in molti che questo aforisma colpisce in effetti l'avevo sottolineato anche io è di un amico mio sì e comunque è una verità è una verità assoluta tantissimi amici uno simoro gli amici sono pochi sono delle persone che selezioni nella vita ecco e che ti selezionano e che hanno vissuto tante fasi della tua vita poi però ci sono anche le belle conoscenze le belle frequentazioni ci sono le quasi amicizie ci sono tanti rapporti e le amicizie possono arrivare però diciamo poi amico è una parola importante sì e forse anche il bello di questo lavoro la scoperta di persone che non ti immaginavi fossero così con cui puoi andare al di là del discorso contingente quello sì io mi rendo conto e molti dei miei ospiti sono completamente differenti da quello che noi ci immaginiamo sì è difficile non avere pregiudizi diciamo i pregiudizi si hanno sempre e sempre più vai avanti alla professione più è facile non abbandonarti ai pregiudizi ecco ma contrastarli io molto spesso mi siedo davanti a una persona di cui non ho stima ma gli faccio la stessa intervista che se ne avessi stima sicuro? e magari sì assolutamente sì è l'unico modo per stare a galla in questo mondo sei un secchione tu studi molto io studio molto sì studio molto e sono circondato da persone che studiano molto tutti i nostri autori studiano molto te l'ho detto l'unica via d'uscita è il sapere e io ho sempre pensato che il giornalista può essere fazioso il giornalismo no il giornalismo è un metodo è una professione tu la puoi applicare ma in fondo il medico opera pure che gli sta antipatico assolutamente senti tu dedichi il romanzo credo che sia la tua famiglia no? Beatrice Valerio e Fabio che uno ne dica scrive sempre per lanciare un messaggio e se tu hai dedicato questo libro ai tuoi figli cosa volevi far sapere allora a tua moglie tutti i libri sono dedicati a mia moglie e a miei figli quindi non ce n'è uno forse una mia madre quindi sono un affetto e sono un amico a loro mi rivolgo a loro ti rivolgo però per dei giovani c'è tanto qui c'è tanta roba ma anche negli altri poi te li porto pensavo ai romanzi non ai saggi innanzitutto senti Roma Roma nel romanzo non è soltanto un'ambientazione di sfondo è una Roma cialtrona è una Roma cupa ma è anche una Roma amata è amatissima e la tua città com'è? è quella che descrivo io cerco di essere un po' distante ormai Roma è suburra non nei romanzi Roma è suburra o è la Roma della politica è una Roma che io non ho mai incontrato nella realtà io vivo appunto zona Nomentano piazza Bologna da sempre non ho mai incontrato né un cardinale né un politico né giornalisti me quando mi guardo allo specchio però è una Roma completamente differente è la Roma della quotidianità che tutti viviamo fatta non molto diversa probabilmente da Torino da Milano ma con dei tratti che ho cercato di riportare beh no Roma è molto più caotica Roma è molto più sporca in tutti i sensi non sto parlando soltanto dell'immondizia di tutte le città beh chi viene da fuori fa questa impressione e l'idea è quella che ti fa gociti che in qualche modo ti rende come la città guarda io mi ricordo una volta vedevo un giallo mi pare fosse Hannibal una cosa del genere in cui passavano a Roma e poi nella scena dopo passavano a Firenze le due stazioni erano considerate come noi descriveremmo il Medio Oriente con casino con sforcizia per tutto e mi immaginavo come ci vedevano gli altri l'altro giorno vedevo i Simpson che giravano per l'Italia e invece c'era tutta opera buoni vini buoni pasti quindi proprio i luoghi comuni formano un po' la testa di chi ci guarda noi italiani siamo molto bravi a parlare male di noi sì ma invece ci guardano bene alla fine dappertutto? più delle volte sì a me in America mi chiedevano io mi vesto male e sono dal tonico e in America mi chiedevano sempre questa cravatta va bene e dicevo guardare proprio alla persona sbagliata dice no sei italiano davvero? senti i giornalisti adesso dico una cosa in particolare quelli di una certa sinistra sono considerati un po' snob un po' elitari un po' distaccati dalla realtà c'è questa percezione spesso si mettono insieme giornalisti e politici posso chiederti non c'entra niente ma tu dici che ti piacciono tanti i cinepanettoni è una snoberia è proprio vero? fammi domande risponderò ti piacciono i cinepanettoni scherzo nessuno disprezzo per i cinepanettoni anzi ma era una cosa che mi aveva incuriosita io sono un assoluto appassionato di cinepanettoni li ho visti tutti alcuni 3-4 volte Natale sul Nilo l'ho visto due volte lo stesso giorno mi piace sì ho letto ma perché? perché fanno ridere perché fanno ridere no questo volevo sapere perché fanno molto ridere no perché non mi aspettavo una critica in cui spiegavo di capire la società il mondo sotteso ma perché tu mi scrivi in una certa sinistra che non so neanche quale che sia però in generale i giornalisti soprattutto quelli che si occupano di politica e che per la maggior parte appartengono a certe elite c'è questa narrazione insomma no? allora l'idea che ogni tanto si possono concedere un momento di bassezza no è il luogo comune e invece per te è una cosa interessante Garina? beh non lo so mi fanno ridere ecco ci rido molto mi piace tutto il cinema la commedia italiana sia dalla commedia quella nobile di Risi Monicelli Scola ma tutta la commedia italiana mi ha sempre fatto molto ridere anche gli anni 80 e 90 sono stati coperti dai film di Vanzina di parenti in maniera molto nobile mi piace ma infatti sono stati molto rivalutati sotto tutti i punti di vista adesso a te piacciono i film e ti piace la musica anche? sì tu suoni anche? eri uno che suonava la chitarra no? no non suono mi piace molto la musica anche quella quella che nasce negli anni 80 in Inghilterra senti dove trovi il tempo di scrivere Giovanni? quando? l'estate noi abbiamo la fortuna di fermarci inizio giugno e iniziare a settembre quindi io faccio come i professori di scuola abbiamo l'estate lunga certo devi lavorare alla stagione che viene devi fare i contratti devi fare i colloqui di selezione però c'è un tutt'altro ritmo rispetto a quello di questi giorni ecco la settimana da settembre a giugno una settimana piena una settimana di grande lavoro e invece da giugno ad agosto si respira senti l'ultima cosa che ti chiedo l'hai trovato un prete simpatico bravo che poteva lavorare in una scuola più probabile ma tantissimi guarda io mi sono formato giocando a calcetto con quando c'erano gli oratori nell'oratorio della chiesa del mio quartiere Mario Santi Rocchi che molti romani conosceranno ex giocatore addirittura in Brasile giocatore di calcio eccezionale tu giocavi a calcio? sì come tutti i ragazzini oppure in maniera agonistica? anche un po' agonistica però da ragazzino attaccante o mediano? attaccante centravanti non avevo alcun dubbio senti te lo dovevo chiedere regalami una canzone e chiudiamo mettendo i titoli di coda su una musica che ami tu vi rovino il palinzesto metti salmo 90 minuti ma a me piace molto salmo ho dei figli anch'io ok grazie ciao grazie grazie grazie